un saluto a tutti gli amici di androidare.it da adriano oggi un piccolo video curiosità andiamo a vedere se il sensore del battito cardiaco del gear 2 è affidabile o no come faremo a vederlo contemporaneamente misurerò i miei battiti cardiaci col samsung gear 2 neo e con questo apparecchio qua questo apparecchio qua non altro che un misuratore di pressione e di pulsazioni del nostro cuore io ho già toccato la fascia al mio braccio che per ora non vedete andrò a fare la misurazione contemporaneamente indossando il gear 2 neo in questo modo per far sì che vediate bene la misurazione in contemporanea vado attivare il sensore del battito cardiaco sul gear ecco qua frequenza cardiaca vado ad accendere il sensore per il battito cardiaco vado ad accendere l'apparecchio per la misurazione della pressione e quindi faccio partire in contemporanea i due i due apparecchi ovviamente dovrò stare in silenzio durante la misurazione faccio partire questo ecco qua come avete visto ho misurato contemporaneamente i battiti cardiaci e andiamo a vedere che scusate andiamo nella cronologia della frequenza cardiaca ultimo battito 89 pulsazioni 89 questa è la prova che il sensore del battito cardiaco del gear è pressoché perfetto i caffè fanno anche l'effetto di farci arrivare i battiti cardiaci a 90 battiti al minuto questo video curiosità vi è stato offerto da androidaria.it un saluto a tutti da adriano